E' tornata la stagione concertistica del liceo musicale di Arezzo ad ospitare i concerti il salone vasariano al Praticino. Questa è una tradizione che ormai va avanti da dieci anni, l'abbiamo voluta fortemente perché secondo noi ha veramente una valenza formativa molto molto importante perché abitua i ragazzi fin da subito a suonare davanti alla commissione, mettersi in gioco, prepararsi per ottenere il risultato. Più di 50 tra gruppi da camere e solisti che si sono presentati di fronte ad un'attenta commissione di docenti per essere accuratamente selezionati e per poter partecipare alla nuova stagione musicale. Durante la stagione praticamente tutti gli strumenti saranno rappresentati, stasera avremo una prevalenza di pianoforte, chitarre, flauti, nella seconda serata più archi, sempre tastieri ovviamente e percussioni e nell'ultima serata ci sarà un po' un mix anche con un intervento del coro. Al Teatro Vasariano anche un evento d'eccezione con un duo chitarra pianoforte. Un programma molto interessante che passa da musiche di Diabelli dell'Ottocento per chitarra e forte piano fino ad arrivare a musiche moderne addirittura composte dallo stesso Barceló, dallo stesso chitarrista, fino a musiche di Brouwer, compositore cubano e ci sarà anche un brano di Bocchini. Per me è molto bello suonare per i ragazzi ma specialmente adesso per il pubblico italiano e specialmente di più a retino. Grazie 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 Grazie